Quasi 12.000 articoli contraffatti, posti sotto sequestro e due titolari d'azienda denunciati. Questo il bilancio dei due controlli della Guardia di Finanza di Arezzo in altrettante ditte del territorio. I marchi taroccati erano note griffe nazionali ed internazionali della moda, peletterie e accessori in metallo per la cui realizzazione i finanzieri hanno trovato gli operai all'opera proprio durante le ispezioni. Un primo controllo in una ditta gestita da un cittadino di origini pakistane. Qui i militari hanno sorpreso alcuni operai intenti al montaggio, saldature e spazzolatura di articoli ed accessori in metallo e varie stampe con i loghi delle case di moda. Il titolare però non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che legittimasse la detenzione di quella merce. L'altro intervento invece è in una pelletteria gestita da una persona di origini cinesi, dove i finanzieri, i scatole di cartone hanno trovato numerosi accessori in metallo per borse e cinture riconducibili a brand delle case di moda, anche in questo caso senza autorizzazioni. Al termine dei due controlli le Fiamme Gialle e Aretini hanno complessivamente sottoposto a sequestro penale 11.587 prodotti contraffatti e denunciato penalmente i due titolari delle rispettive aziende.